Chi ben comincia è a metà dell'opera e il vecchio adagio vale anche in politica, così mentre Oliverio deve fare i conti con i magistrati, il PD con le racerazioni interne di 5 stelle con la perdita dei consensi e le incertezze sulle candidature, il centrodestra ha già le idee chiave sulle regionali del prossimo anno. Abbiamo già individuato il candidato che è Mario Chiuto, all'unanimità il coordinamento regionale di Forza Italia si è espresso, il suo nome è sui tavoli nazionali, vi anticipo che è stato già assolutamente accolto. Che si tratti o meno di uno scatto rubato poco importa, la foto apparsa sui social con Mario Chiuto ritratto insieme allo stesso Cannizzaro e a Berlusconi un segnale preciso ai compagni di cordata e rintuzza le ambizioni nutrite da Piero Aiello che se vorrà potrà accodarsi, magari cercando di spuntare un ruolo di prestigio come la presidenza del Consiglio in caso di partecipazione al successo. Piero Aiello mi auguro che queste personalità autorevoli certamente possano contribuire alla vittoria del centrodestra. La partenza anticipata potrebbe garantire un discreto margine di vantaggio sugli avversari ed attrarre nella coalizione altre forze politiche che non hanno ancora deciso da quale parte stare. Berlusconi, suo chiudo, ascolta i territori. Il territorio calabrese all'unanimità, soprattutto la comunità forzista, si è già ampiamente espresso sulla candidatura di Mario Chiuto. Salvatore Bruno per la Cineus 24.